Tutto ciò è estremamente infantile. L'avremmo fatta e non era contro. Anche ai pranzi di famiglia la prepariamo sempre, anche se piuttosto leggera. Non contate su di me per questo, preferisco raggiungere gli altri. Si è girata ed è andata via. Cosa succede? Aia, e mi è venuta addosso. Scusa, Lady, mi ha girato intorno ed è uscita dalla stanza. Ma che cos'è? Ma che sta succedendo qui? Mi sembra evidente. Ho dato un'occhiata alla stanza. Nat sta mescolando qualcosa in un'insalatiera. Castiel e Iris stanno sbucciando e tagliando frutta. Invece Lisandro sta misurando la quantità di non so quale succo di frutta. E a quel punto ho visto una bottiglia di vino. Oh, mamma mia! Scusate, c'è un po' di vento, ma proprio leggermente. Comunque, state facendo un cocktail. Volete bere delle bevande alcoliche? State preparando la sangria. Ok, quindi il problema è che è l'alcol. Bottiglia di vino, frutta. State facendo un cocktail? Volete bere delle bevande alcoliche? State preparando la sangria. Detta scandalosamente, tra l'altro, perché c'è il punto di domanda e il punto esclamativo. Volete bere delle bevande alcoliche? Te la butto giù così. Siamo dei veri disobbedienti, vero? Stiamo preparando una sangria? Non ho idea di che cosa sia. Fa anche rima. Lady, Lady, non è che la cosa ti metta a disagio. Sinceramente sì, perché al posto di prendere delle birre, non lo so, della vodka, della Red Bull, come degli adolescenti normali, state facendo casino. Ma vabbè. Ma no, assolutamente. Non l'ho neanche mai assaggiata. Ah, quindi si berrà. Ah, questo spiega molte cose. Ma comunque se c'è l'opzione di scegliere, io non bevo. Così, tanta innocenza in una sola stanza. Mi sento il demonio in mezzo a voi. Anche se fa le sue solite battutacce, si vede che è tutto contento. Castiel, guarda. Grazie al cielo sono rinsavita e non mi piace più. È diverso dal solito, insomma. Ecco, appunto. Ma che cosa le prende a Melody? Forse ha paura che possa darci alla testa. Ah, tu sei d'accordo? Trovo che la sua reazione sia un po' esagerata. È vero, non pensare male. Vogliamo solo divertirci un po'. Ah, così? Ci si può divertire senza alcol, questo è certo. Ma trovo il suo modo di giudicare un po' eccessivo. Anche se ho problemi ad ammetterlo, per una volta sono d'accordo con Castiel. Ah, sto sognando. Vabbè, tanto da quando è andato a vivere da solo è partito. Deve darsi una calmata. Nessuno di noi vuole esagerare con l'alcol. Mmm, tu dici? Non so che dire. Non sono mai stata ad una festa dove ci fossero delle bevande alcoliche a disposizione. Ma se ne facciamo un uso ragionevole, non vedo dove sia il problema. Quando mai si è fatto un uso ragionevole di alcol? In una situazione del genere, soprattutto. Cioè, boh, io non lo so. Ero solo venuta a dirvi che abbiamo deciso di giocare a nascondino, ecco. Qui ci sono le bevande alcoliche da trentenni. E lei dice, parla di nascondino, va bene. Divertente, ragazzina. Non scherzo, pensiamo davvero che sarebbe divertente. Ecco, voglio vedere la sua faccia. Non credo sia una buona idea. E perché? Ma che le prende? Pensavo le sarebbe piaciuta l'idea. Iris, pensaci bene. Potrebbe essere divertente? Davvero? Non credo alle mie orecchie. No, infatti. Cerco di immaginarti nascosto dietro un cespuglio. Ci provo, credimi. Non ci riesco. L'immagine non appare. È quasi contro natura. E se lo dici tu? Lisandro, non posso certo dire il contrario. Cosa? E se lo dici tu? Castiel? Non posso certo dire il contrario. Ok. Castiel che non la smette di guardare Lisandro. Chissà che pensa. Ah, ok. È riferito a quello che ha detto prima. E se lo dici tu? Lisandro? Non posso dire che è il contrario. Boh. Castiel che non la smette di guardare Lisandro. Chissà che pensa. Tornare bambini ogni tanto non può che farci bene. Ah, per l'incidente, per tutto quello che è successo, ho capito. È che non vorrei si creasse disordine. Non siamo dei selvaggi. Faremo attenzione. Boh, la gente ha comportamenti a caso. Va bene, ma prima finiamo la sangria. Oh, che bello. Ma infatti... Dov'è Kentin? Non doveva aiutarvi? Non so. L'ho visto sgattaiolare qualche minuto fa. Forse perché si può immaginare dove si è andato. Forse perché si può immaginare dove si è andato. Ma in che senso? Ok, allora, o è in bagno o ha litigato con Castiel. Ah, ok. Discorsi così a caso. Vado a cercarlo, così gli dico quello che abbiamo previsto. O, ok, vi lascio finire la sangria. Vi aspetto in salotto. Va bene. Parla con Kentin. Non sto capendo assolutamente nulla, ma va bene così. Allora, o è andato in bagno o ha litigato con Castiel. Non penso sia qui. Ah, come non detto. Pensavo che quella di Castiel fosse una battuta. Ah, eccoti. Ho dovuto rimettere una delle lenti. Mi dava fastidio e l'ho quasi persa. Queste famose lenti sembrano complicate da gestire. Deve essere una seccatura. Ho già portato delle lenti colorate. Bisogna solo prenderci la mano. Vogliono dire tutte e tre la stessa cosa. Queste famose lenti sembrano complicate da gestire. Deve essere una seccatura. Ho già portato delle lenti colorate e bisogna solo prenderci la mano. La terza no. Perché gli dà confidenza e non mi interessa. Deve essere una seccatura. Queste famose lenti sembrano complicate da gestire. La prima. Se faccio la B mi risponde male, sono sicura. Come al suo solito. Ma sì, facciamo la B. Non credo di avere altra scelta. Puoi sempre mettere gli occhiali. Infatti cala, lo sapevo. Ne riparliamo. Ma credevo di essere stato chiaro. Lì detesto quei maledetti fondi di bottiglia. Ma scusa, potresti semplicemente comprare una nuova montatura. Non mi sembra che hai fatto tante storie quando è stata a Praia a farteli indossare. Tra parentesi. Preferisco le lenti. Gli occhiali non mi stanno bene. Bene, bene. Troppo testardo sull'argomento, infatti. Sono venuta a cercarti per dirti quello che faremo come attività. Devo avere paura per caso. Siamo d'accordo per fare una partita a nascondino. Sono sicura che non gli piacerà come idea. Nascondino. Non ci gioco dalle medie. Credo un po' tutti. Se hanno detto tutti sì, andrà bene anche a me. Bene, raggiungiamo... Raggiungiamo gli altri, allora. Ok, andiamo. La partita di nascondino sta per cominciare. Raggiungi il resto del gruppo. Sinceramente non vedo l'interesse. Secondo me ognuno può fare quello che vuole. A parte che ho la voce che va come vuole. Ma a parte questo. Sono sicura che sta ancora parlando di questa storia della sangria e non ho voglia di mischiarmi. Sono sicura che sta ancora parlando di questa storia della sangria e vorrei tanto poter dire la mia. Ma perché queste scelte, santo il cielo? Non posso giocare un episodio normalmente. A che cosa mi porta? Secondo me ognuno può fare quello che vuole. Cioè, io chiaramente direi la A. Perché cosa può fregarmi? Però non capisco perché la scelta. Boh, non ho idea. Sono sicura che sta ancora parlando di questa storia della sangria e non ho voglia di mischiarmi. È successo qualcosa? Ecco. No, niente. È solo che non sopporto che gli altri vogliano bere dell'alcol. E meno male che non dovevo mischiarmi, però vabbè. Non dovresti prenderla così. Sanno di sicuro quello che fanno. O almeno credo. Eh, vabbè. Ciao. Ma quale storia dell'alcol? Perché? Perché qualcuno ha portato la birra? No. No. Iris ha proposto di preparare la sangria. Che bella idea. Dei selvaggi. Melody è uscita con aria sconsolata. Cosa? Ma se è così buona la sangria? Sono d'accordo con Melody a sto giro. Facciamo dei giochi dell'asilo e vogliamo far i finti grandi con l'alcol. Cioè, veramente, non ha senso. Tutto dipende se abbiamo o meno accesso libero a tutta la casa. Se è così, non mi troverete mai. Fantastico! Che faccia fai? Fantastico. Stavo soffocando dal ridere. Rosa è davvero divertente quando fa capire che si sta annoiando. Ah, ok. Quella è la tua faccia da annoiata. Perfetto. Vedo che non sono tutti entusiasti di giocare a nascondino. Diciamo che non è proprio lo stile di Rosa. E dunque? Devo andare fuori, no? Boh. No, forse in cucina. No. Siamo tutti insieme, alla fine. Ok. Le ragazze ci hanno raggiunte e Alexi ha preso le cose in mano. Fantastico. Adesso ci siamo tutti. Adesso che ci siamo tutti, cominciamo con le cose serie. Se si può dire. Mi piace questa faccia. Rosa, da questo momento in poi non è più ammesso essere di cattivo umore. Quindi, bisogna già decidere chi conta e chi si nasconde. Oh, mamma. Ho una domanda. Sì? Possiamo nasconderci in tutte le camere o dobbiamo limitarci a salone, cucina, eccetera? Io preferirei evitaste le tre camere da letto. Ah, allora io imbroglierò. Bene. Anch'io ho una domanda. Qua non ne veniamo fuori. E' autorizzato essere in due nello stesso posto? Oh! E perché no? Anche se così faciliti il compito a chi ti cerca. Poi sta a te a decidere se ne vale la pena. Ah! Amica, amica. Adesso decidiamo chi deve contare. Non dovrebbe essere il più giovane di noi? Tipo Thomas, che non c'è, ma vabbè. Non potremmo piuttosto tirare a sorte. E poi almeno due... E poi almeno due persone che cercano... E poi almeno due persone che cercano gli altri. Se no è una noia. Ok, ok. Giochiamo a morra cinese? E chi perde si sfida. Ok. No, magari devo cominciare io. No, che brutto. Sicuramente mi faranno fare un giro dove... Mi nascondo e un giro dove cerco, sono sicura. Va bene, cominciamo. Mi sono ritrovata faccia a faccia con Praia. Ok. Abbiamo contato fino a tre e io ho scelto... No, veramente? Allora. Da stereotipo di solito si lancia prima la forbice. E lei pensando che io faccio la forbice... Do la forbice, mi mette sasso. Quindi io direi carta. Sasso però, cavolo. O forse... Boh. Se è da stereotipo, dovrei fare la carta. Sono scelte sbagliate in questo episodio, santo cielo. Forse il sasso è troppo banale. Lei fa le forbici. Carta. Boh, provo carta. Seguo il mio ragionamento. Io do forbici. Lei dà il sasso, io do la carta. Boh, provo? No. Forse no, meglio di no. La forbice è troppo scontato. Il sasso. Qualcosa mi dice che devo dare il sasso, però io do la carta. Perché io non... Non mi ascolto. Non mi ascolto. Dannazione. Chissà cosa comporta. E poi ho dovuto affrontare Rosa. E credo che non sarà così... E credo che non sarà così difficile vincere. Perché? Stavolta scelgo io. Sasso, carta, forbici. Io direi sasso. Perché prima non ho fatto sasso. Però è scontato. E se facessi carta? Ancora una volta. No, forse dalle forbici perché è il suo simbolo. Il simbolo del... Della sarta, del cucito, eccetera, eccetera. Però in questo caso dovrei dare sasso. E sarebbe la stessa cosa di prima. Perché io ho dato carta e le ha dato forbici. Sasso, carta, carta. Non lo so, sasso. Non lo so. Non lo so. Dannazione. Forse il sasso. Per darmi una seconda possibilità. Perché prima dovevo dare sasso. E non l'ho dato. Lo devo dare adesso come se fosse una seconda possibilità? O è troppo scontato che adesso do sasso? Mamma mia, queste psicologie. E' carta. Sasso, uffa. Sì! Sì! Sono un genio! Ok, quindi non era una seconda possibilità. Ah beh, però... Beh, sì. Perché se avessi dato sasso, sasso... Sono contenta. Preferisco nascondermi e non cercare gli altri. Sì! Ho aspettato che gli altri finissero di sfidarsi. Cioè, fare la conta è troppo... È troppo facile. Bisogna complicarsi la vita. Restano solo Melody e Iris. Oh cavolo! Sembra quasi che Melody non sia tanto contenta. Ma neanche Iris. Credo che il gioco crei seri problemi. Mi dispiace perché è stata così carina a invitarci qui da lei. Ah, ok. Iris, tutto bene? Sì, Lady, non ti preoccupare. Ma io non capisco qual è il problema se delle persone si nascondono nella tua casa. Cioè, boh. Contate fino a cento, così avremo un po' di tempo per nasconderci. Iris e Melody... Hanno cominciato a contare senza tanto entusiasmo. Ma, cioè, questo non è un minigioco dove c'è il tempo, vero? No, spero di no. Contate fino a cento, così avremo un po' di tempo per nasconderci. Iris e Melody hanno cominciato a contare senza tanto entusiasmo. E gli altri si sono messi a correre ovunque. Oh, che divertente! Quanti ricordi! E presa dall'adrenalina mi sono messa a correre anch'io, come una scema, in giro per il giardino. Vai in fretta a trovare un nascondiglio come si deve. E dove? Dove? Quando? Come? Qua? Come faccio? Me lo dà lui, però, sicuro. Il salotto è preso d'assalto. Ma nessuno sembra sapere dove nascondersi. Che ridere! Non mi sembra il posto migliore, devo cercare meglio. Ok. Giardino. Allora, cucina? No, non penso. Ecco, qui mi sembra niente male. Devo solo vedere se... Ma che ci fai qui? Speravo fosse Lisandro. Secondo te, intelligentone? Questo è il mio territorio, ragazzina. Vai altrove, per favore. Con piacere. Quanto ti odio, Castiel. Inutile venire da questa parte della casa. Ci sono le camere e Iris è stata chiara. Non vuole che ci nascondiamo qui. A meno che io non bari. Ah no, non mi fai barare. E se baro? No, e se mi nascondessi nella vasca da bagno? Ma non posso! Ma ho proseguito. Non credo fosse un'idea brillante. Oh, ma che cavolo! Violet è nascosta nella vasca. Mi hai spaventata. Non mi aspettavo proprio di trovarti lì dentro. Allora resto qui. Credo che non sia niente male come nascondiglio. Vado a cercare altrove. Devo controllare nelle camere o posso andare in giardino? Boh! Non capisco se è una scelta... O se decido il gioco. Devo sbrigarmi. Le ragazze hanno quasi finito di contare. 83, 84, 85. Non mi resta che nascondermi nei cespugli. E poi non credo mi abbiano vista passare. Teoricamente dovrebbero avere gli occhi coperti. E mentre mi abbassavo per nascondermi in un cespuglio folto, ho sentito una voce familiare. Sì, è quello che volevo. Il mio cuore batte all'impazzata e sto per... gridare di gioia. Ah, ok. E infatti io non capivo se... Tipo andavo nella camera di Iris e mi dava l'opzione. Mi nascondo qui o cerco altrove? E lì avrei scelto... Cerco altrove. Perché appunto volevo incontrare lui. Mi ha messo un dito sulla bocca. Ma che cosa? Mi fai un po' di posto. Che carino, che carino! 99, 100. Ah, che bello! Abbiamo fatto in modo di essere ben nascosti dalle foglie. Questo vestito è davvero carino, ma non è proprio adatto a questo tipo di attività. Eh, io l'ho detto. Se ci separiamo, saremo più produttivi. Ma c'è la tana libera a tutti? Spero di sì. Non mi va di cercare le persone da sola. Di sicuro. Ho sentito dei rumori provenire dal giardino. Sono sicura che sono tutti nascosti tra i cespugli. Cominciamo da lì. Lissandro aveva ragione. Non sono per niente furba. Irisa e Melody si sono messe a cercare tra i cespugli. No! E si sono avvicinate pericolosamente al nostro cespuglio. La tensione. Stavolta ci beccano. Trovato, Alexi. Ma ti ha dato di volta il cerve... Ah, stavo per dire una parolaccia. Ma ti ha dato di volta il cervello? Mi stavi per accecare con quel ramo. Alexi è proprio qui vicino. Oh, scusa. Io penso soprattutto che tu abbia preso male il fatto di essere stato trovato per primo. Eh, sì. Beccato. Ho sentito una risatina provenire da qualche metro più in là. Veniva da lì. Andiamo. Stiamo davvero giocando a nascondino. Io non ci credo. Si sono dirette verso il fondo del giardino. Con Alexi dietro che le seguiva a stento. È la nostra occasione. Ho fatto segno a Lisandro di seguirmi. Per fare tana libera a tutti? Credi che abbiamo il tempo di cambiare nascondiglio? Sì, ma dobbiamo battere tutti i record di discrezione possibili. Sono uscita dal nascondiglio facendo più attenzione possibile. Lisandro mi segue. Adesso devo trovare un nascondiglio in fretta. Non va bene imbrogliare, ma adesso che sei uscita dal tuo nascondiglio devi trovarne un altro. Ok. Cucina. No. Eh, allora dobbiamo andare nelle camere. Qui c'è la tizia. Camera di Iris Camera di Thomas Non da quella parte. È una pessima idea. Non saremmo dovuti entrare. Il fratellino di Iris non ha chiesto niente. Ok, ho capito il senso della frase. Qui allora Sono davvero a corto di idee. Io pensavo la camera del fratello perché non... Cioè, non... A loro non veniva in mente di cercarci lì probabilmente, però effettivamente è un po' fuori luogo. Dobbiamo cambiare stanza. Poi abbiamo sentito una voce femminile provenire da un'altra stanza. Non abbiamo più il tempo di andare altrove. Eh, immaginavo avremmo imbrogliato. Non abbiamo molta scelta. C'è solo la pen di abiti. Ma guarda in che condizioni è. Ci troveranno subito. Le voci di Iris e Melody sono sempre più vicine. Ma non controllano qui se hanno detto di non nasconderci qui. Hai ragione, andiamo. Siamo entrati bene o male nell'armadio e ci siamo nascosti dietro i cartoni e le giacche appese. E all'improvviso una delle porte si è aperta. Oh cielo. Sono rimasta bloccata. Il cuore mi batte forte. Iris, non credo siano in camera tua. Sono rispettosi. Ne sono sicura. Hai ragione, cerchiamo altrove. Le ho viste dirigersi altrove. E in quel momento ha squillato un telefono. Credo che Iris abbia ricevuto un messaggio. Ah, ok. Pensavo il mio o quello di Alessandro. E a quel punto Iris è scattata verso il suo computer. Ah, Iris allora vieni? Aspetta un attimo, ha fatto qualche passo in più guardando fissa l'armadio. Ho trattenuto il respiro sempre senza muovermi. E ho sentito Lisandro mettermi una mano sulla nuca come se volesse tranquillizzarmi. Ammetto che nonostante il momento di disagio c'è qualcosa di eccitante a restare nascosta qui con lui. Oh cielo, cosa sta diventando, Rina? E per fortuna Iris si è decisa a seguire Melody. Iris è comunque andata al computer per scrivere qualcosa. Io e Alessandro siamo rimasti immobili per qualche secondo e Iris ha ricevuto altre notifiche come le precedenti. E alla fine siamo usciti dall'armadio. Chissà chi è a scriverle. Non ne ho idea, ma comunque non ci riguarda. Lisandro è la privacy. Uh, voglio comunque sapere che cosa ci nasconde. Hai ragione, devo smetterla di mischiarmi nella vita degli altri. Oh mamma! Allora, io direi voglio comunque sapere che cosa ci nasconde, ma sono consapevolissima che dovrei fare la B per ingraziarmi Lisandro. Hai ragione, devo smetterla di mischiarmi nella vita degli altri. E se questo compromettesse l'illustrazione? Sicuramente. Voglio comunque sapere che cosa ci nasconde. Ne vale la pena? Lisandro reagisce male, forse. Non prendertela, ma preferisco non immischiarmi. E visto che la mia curiosità ha preso il sopravvento, mi sono avvicinata al computer. Mannaggia, c'era password. Credo che Iris abbia bloccato l'accesso a tutto prima di uscire dalla camera. Ecco, perfetto. Ma che state facendo? Beccati, lo sapevo. Lo sapevo. Cavolo, che casino, che disastro. Lo sapevo che non ne valeva la pena. E ho anche pensato che ci avrebbero beccati. Però poi ho detto no, perché sono appena entrati, cioè se ne sono appena andate. Non ci credo. Stai spiando sul mio computer. Cavolo. Non ho perso un'illustrazione, ne ho perso, ne ho persi dieci. Che disastro, che cosa orribile. Che scelta sbagliata, mamma mia. Non ci credo, stai spiando sul mio computer. Io devo essere bianca come un lenzuolo. Non posso negare, visto che ho ancora le mani sulla tastiera. Il computer faceva un rumore strano. Volevamo solo essere certi che non ci fosse niente di anormale. Accidenti. Sono delle notifiche. Non c'è niente di strano. Sta ancora guardando lo schermo bloccato. Vabbè, alla fine non avete toccato niente. È la cosa più importante. Ha subito cambiato tono. Sbaglio o oggi si comporta in modo strano? Comunque ha continuato a ricevere notifiche fino a quando abbiamo lasciato la stanza. Io spero che... Che sarebbe comunque andata così. Cioè che saremmo usciti dall'armadio e lei sentendo il computer che continuava ad andare è tornata indietro per ricontrollare, non so. Che brutta cosa. Che brutta cosa. Mi dispiace, Lisandro. Noi abbiamo ancora della gente da trovare. Mentre aspettate che il gioco sia finito, potete servirvi in cucina. Ci sono le bevande e diversi stuzzichini. Possiamo servirci direttamente dal frigorifero. Chi resta da trovare non ce l'hai con me per il fatto di essere entrata in camera tua, vero? Oggi solo scelte sbagliate. Solo quella del sasso è stata giusta. Tutto il resto è una catastrofe. Noi abbiamo ancora della gente da trovare. Mentre aspettate che il gioco sia finito, potete servirvi in cucina. Ci sono le bevande e diversi stuzzichini. Ovviamente dal frigorifero. Chi resta da trovare? Chi resta da trovare? Rosalia, Violet e Praia. Solo ragazze. Sono davvero furbe. Sì, a parte me. Diciamo. Vi lascio adesso. Raggiungo Melody. A dopo. Ok. L'ho notato anch'io, ma posso capirlo. A volte si ha paura che le persone capitino su qualcosa che ci riguarda. Lo sapevo che avrebbe detto una cosa del genere. Eh sì. Adesso andiamo a prendere qualcosa da bere. Va a prendere qualcosa da bere. Grazie. Effettivamente però, adesso che ci hanno trovati, possiamo stare insieme io e lui. No. Invece no. Ecco i piccioncini. Alexi. Se solo potessi evitare questo tipo di allusioni. Come sei elegante, Lisandro. Ma siamo soli adesso? E magari c'è qualcuno nascosto. Violet no. Praia lo sa già. Chi era l'altra che mancava? Ah beh, Rosalia, però lo sa già anche lei. E così vi siete nascosti insieme? Basta adesso. Qualcuno potrebbe arrivare da un momento. Violet, prendi da bere anche tu? Iris ha detto che potevo servirmi da sola, ma non oso. Non c'è problema. Non c'è problema. Mi occupo di tutto io. Cosa vuoi? Succo di frutta, bevanda gasata, gassata o la sangria? Succo d'arancia, per favore. Brava, brava Violet. Uh, che cosa vuoi bere, Lady? Vorrei una bevanda gasata, gassata. Gasata, per favore. Vorrei un po' di sangria, per favore. No! Cavolo, la scelta anche su questo. Ma che cavolo? Che cosa vuoi bere, Lady? No, io... No, no. L'ho anche detto prima. Vorrei un po' di sangria, per favore. Ma perché? No, 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 no. No, io sono una brava ragazza. Vorrei una bevanda gasata, per favore. E mentre Elisandro mi riempiva il bicchiere, gli altri hanno cominciato ad invadere la cucina, ecco appunto. E meno male che io dovevo stare sola con lui. Comincio ad esserci un po' troppa gente in questa stanza, per l'appunto. Vai a prendere un po' d'aria. Iris e Melody mi sembrano un po' perse. Qualcosa non va? Non riusciamo a trovare praia? No, praia! Ah no. No, sto dicendo una cavolata. Pensavo di aver confuso praia con Rosalia, invece no. Niente. Sono scema. Stiamo girando già da un po'. È come se fosse sparita nel nulla. Secondo me è su un albero possibile. Basta sapere dove cercare. Praia? Ho alzato lo sguardo e ho visto i rami muoversi, eh, mi immaginavo. E in qualche secondo e con grande agilità è scesa dall'albero. Sei stata lì sopra per tutto quel tempo? In genere non si pensa mai a guardare in alto quando si gioca a nascondino. Allora ho vinto. Alzo la mano. Ci contavo. Sei davvero una grande competitrice. Ammetto che è vero. Che cosa abbiamo vinto quindi? La sangria? Non saprei. Magari scegli tu il prossimo gioco da fare? Mi va. Balliamo, giusto? Ma prima di questo facciamo una pausa. Prendiamo qualcosa da bere e da mangiare. Ah, è vero. Ho ancora il mio bicchiere in mano. Ho bevuto un sorso. Le ragazze si sono dirette verso la terrazza. Ho corso un bel rischio a nascondermi con l'isandro. Farò in modo di passare un po' di tempo anche con qualcun altro. Farò in modo di passare un po' di tempo anche con qualcun altro. Oh mio Dio. Vado a parlare un po' con Nathaniel? No. Castiel? No. Armin? No. Kentin? No. 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 Oh santo cielo. Ma io non sopporto nessuno. Cioè non ho proprio niente in comune con questa gente. E' uno peggio dell'altro. Kentin è il meno peggio. Di tutti. Però per coerenza potrei dire Castiel. Però no. No. Kentin. Facciamo Kentin. Farò in modo di passare un po' di tempo anche con qualcun altro. E. Discuti col ragazzo che hai scelto. Ma a me stanno facendo paura queste scelte sinceramente. Kentin. E' l'unico con un briciolo di cervello. Dove sto andando? Dove devo andare? E' l'unico con un briciolo di cervello rispetto agli altri. Armin, Nataniel e Castiel. Alla fine mi sono divertita parecchio. E stavo addirittura per vincere. Eh sì. Ah sono insieme questi due nel bagno? Anche a me è piaciuto giocare. Non capita tutti i giorni di dover mettere a frutto questo tipo di capacità. Tu dove ti eri nascosta? Dietro il divano sulla terrazza. Passavano tutti da lì ma nessuno mi ha vista. Almeno fino a quando non ho starnutito questa rosa. Ah così, ok. Qui si sta discutendo. E meno male che nessuno doveva entrare qui. Non devi essere sempre tu a fare tutti gli sforzi. E' quello che mi dico a volte. Ma ho sempre la sensazione di essere egoista. Ma stai scherzando? Sono loro che devono sentirsi stupidi, non tu. E dovrebbero rifletterci. Meglio non dire niente. No infatti. E' raro vederli parlare infatti. Stavano parlando dei genitori sicuramente. E non so dove devo andare. Eccolo. Perché mi dai la scelta di parlare con Kenti? Boh. Lady, vieni anche tu ad approfittare della terrazza? Mi sono detta che era un posto carino per bere un bicchiere. Preferisco non dirgli che lo stavo cercando e lasciare andare la conversazione. Effettivamente. Ha bevuto un sorso dal bicchiere. Credo abbia preso la sangria. Bevi la sangria? Io preferisco una bevanda frizzante. Non mi piace il sapore dell'alcol. Oh, brava Rina. A me piace molto la sangria. Mia madre la fa davvero buona, tra l'altro. Mi chiedo perché Melody disapprovi a questo punto. Non ci faccio troppo caso. Stasera ho solo voglia di divertirmi. Ci siamo seduti sul divano a parlare del più e del meno. Ok. C'è davvero una bella atmosfera stasera, nonostante gli svalsi di umore di Iris e le frasi senza senso di melodi. Kentin è andato a riprendersi un bicchiere di sangria e io ho deciso di assaggiarne un po' per sapere che gusto ha. Sì, ma con lui, dal suo bicchiere, non mi convince tanto questa cosa. Poi tra l'altro, Lisandro sa che Kentin era il mio ex, tra molte e molte virgolette. Boh. Kentin è andato a riprendersi un bicchiere di sangria e io ho deciso di assaggiarne un po' per sapere che gusto ha. Niente male, in effetti. Che bello! Dopo tutto questo tempo siamo ancora qui a condividere bei momenti. Mi fai il nostalgico, mi fa tanto piacere, haha, perché mi hai seguito nella nuova scuola. Sì, mi viene da fare di più questa, sinceramente. Mi fa tanto piacere, no. Mi fai il nostalgico, no. Vediamo se la prende male o bene. Male, sicuramente. Penserà che lo prendo in giro, come al solito, bla bla bla. Perché mi hai seguito nella nuova scuola. No, è salito. Ci hai preso in pieno. Rivelazioni? Sono stato così stupido. E prima che potessi rispondere, gli altri sono arrivati tutti in terrazza, con in mano un bicchiere e degli stuzzichini. Ah, interessante, interessante. Forse avremo modo di continuare... questo discorso dopo, forse. E prima che potessi rispondere, gli altri sono arrivati tutti in terrazza, con in mano un bicchiere e degli stuzzichini. Oh cielo! Si sta facendo buio e Iris ha deciso che è ora di mangiare. Ti serve una mano, Iris? Che bello! L'insalata è pronta e la pizza dovrebbe essere cotta. Aiutami a portare questa roba in salotto. Va bene. Porta le cose da mangiare in salotto. Che bello! Beh, il salotto fino a prova contraria è qui. Poi non so dove vuoi andare tu. Possiamo accendere le luci? È un po' scuro. Uh, storia di paura. A dire il vero, non le accendo per avere un po' più di atmosfera, se per te va bene. Ok. Interessante. Io non so come andrà a finire questa storia, ma andrà a finire bene, secondo me. Ho preso le patatine in una mano e la pizza nell'altra. Ce la fai, Lady? Sì, sì, non ti preoccupare. Allora io prendo le bevande. Ah, avanti e indietro dobbiamo fare, ho capito. Ho messo tutto sul tavolino. L'atmosfera è un po' diversa da quando si è fatta notte. Non so perché, ma sento una certa adrenalina addosso. Oddio! Come se sapessi che sta per succedere qualcosa. Gli altri stanno ancora parlando in terrazza. A tavola! Passo in bagno a lavarmi le mani. Ci vuole dopo essermi nascosta tra i cespugli. Vai a lavarti le mani, poi torna in salotto. Oh, che ragazza ben educata. Bagnonotte. Mi sono lavata le mani. Un po' pensierosa. Bello. Chissà che gioco vuole fare praia. Meglio tornare in salotto prima che la pizza si raffreddi. Davvero non devo prendere niente qua? No? No. Chissà di no. No, niente di niente. Bing. Aia. Scusa, non ti avevo vista. Non ti preoccupare, sono io che non guardavo dove andavo. Mentre mi accarezzo il braccio, mi è caduto l'occhio sulla porta della camera di Iris. Aha! Stava uscendo da lì. Ancora? Torniamo in salotto? Sì. Vabbè, avrà un fidanzato a questo punto anche lei, non lo so. E non lo vuole dire, non vuole che si sappia. Per la storia di Carla. Non lo so. Anche se sarebbe un po' banale, però non lo so. Questa storia dei messaggi comincia a incuriosirmi. Sono sicura che Iris è preoccupata per qualcosa. Boh, forse c'entra suo padre, visto che hanno divorziato i suoi, non lo so. Alcuni mangiano e altri stanno parlando animatamente. Resta un posto vicino a... Cavolo, dov'è finito il mio braccialetto? Forse l'ho dimenticato in bagno. Vado a vedere. Torno a cercare il braccialetto. L'avevo effettivamente lasciato in bagno. Prima non c'era comunque. Adesso che ci sono, sto esitando a dare un'occhiata in camera di Iris. Un'altra scelta. Solo un attimo, tanto per sapere se riceve sempre così tanti messaggi. No, questa volta non lo farei io. Ahah, esatto. Mi hai capito al volo. Vado a mangiare. Non mi va proprio di disturbare Iris. Più di quello che ho già fatto. Faccio solo un giretto in camera sua e me ne vado. Però dovrei essere coerente al tempo stesso. Se prima ho fatto una cavolata. Guardando appunto nel suo computer. Invece di fare la scelta positiva per Lisandro. Dovrei farlo anche adesso. Ah, così. Ok. Ho fatto la prima perché appunto non valeva la pena fare la seconda. Tanto non mi avrebbe... Sono sicura che non mi avrebbe fatto scoprire niente. Anche perché la cosa non ha senso dal momento che prima ha detto che il computer aveva la password. E Iris ci ha beccati. Cioè, mi ha beccata proprio perché... Ero lì e non riuscivo ad entrare nel computer. Quindi perché adesso doveva essere diverso. Non lo so. Cioè, era una scelta che non aveva senso pensandoci. Quindi... Quindi... Spero che questa fosse una seconda possibilità del gioco. E che con questa buona azione ho fatto appunto qualcosa di buono nel mio percorso di gioco. Come prima nella partita di sasso carta forbice che ho sbagliato al primo round. Però mi ha fatto fare il secondo per rimediare, tra virgolette. Quindi... Boh, spero sia così. Perché... Perché non aveva senso. Fare un percorso coerente e... E andare comunque nella stanza di Iris non avrebbe avuto senso. Perché appunto il computer avrebbe avuto la password. E poi comunque prima... Anche prima era scontato che non mi avrebbe fatto... Che la scelta non mi avrebbe fatto scoprire i segreti di Iris. Però comunque ho voluto tentare e ho fatto un macello. Oltre a perdere la fiducia con Lisandro, ci ho fatti anche scoprire. E non so se sarebbe successo comunque... Se non... Cioè, se avessi fatto un'altra scelta. E quindi in sostanza era una scelta sbagliata su tutti i fronti. Quindi speriamo di non star facendo casino. Allora... E la pizza si è raffreddata nel frattempo. Ok. Tempo di andare a prendere un bracciale in bagno, ma vabbè. Mi sono seduta tra Lexi e Rosa. Tutto bene, Lady? Che cosa facevi? Sono andata a riprendere il braccialetto che avevo lasciato in bagno. Ok. Abbiamo deciso cosa faremo dopo mangiato. Davvero? Diciamo che Miss Ninja ha deciso da sola. È mio diritto visto che ho vinto. E quindi a che cosa dobbiamo giocare? Al gioco della bottiglia. Il gioco della bottiglia, ma davvero? Hai presente il gioco in cui i partecipanti si siedono in cerchio e nel mezzo si mette una bottiglia vuota da far girare a turno? Alla base, chi gira la bottiglia deve baciare la persona indicata. Ma so che questa regola non piace a tutti. Ah, così? Proprio no. Vi ricordo che mio fratello è nel gruppo di chi gioca, quindi se si può evitare, grazie. Ok, va bene. Che bambini, mamma mia. Ah, immaginavo. Credo che Violet sia a disagio. Non ce la vedo mettersi a baciare qualcuno davanti a tutti. Ah, io invece pensavo che ce l'ha rimasta male perché Armin aveva fatto questa scenata e quindi ad Armin non piaceva Violet, appunto. Invece vedo che Melody è tutta contenta, ecco. Quindi, visto che le regole non piacevano a tutti, ho trovato il compromesso giusto. Vai, vai. Ognuno di noi prende un pezzo di carta e ci scrive una domanda o un'azione. Poi mettiamo tutti i foglietti in un vaso e ognuno dovrà pescare. Ok. La persona che pesca è la stessa che farà girare la bottiglia e indicherà la persona che compirà l'azione. Meglio così per evitare di imbrogliare. Non ho capito nulla. Mi sono persa quando hai parlato di baciare qualcuno. Vuoi dire nel caso in cui inventassimo qualcosa invece di leggere quello che c'è sul foglio? Esattamente. Allora, Lady, che ne pensi? Non ho capito niente. Posso sapere perché Lady è l'unica a cui chiedi un parere? Io per caso ti ho chiesto dove hai comprato il tuo cappello da bad boy? No. Ma cosa c'entra? Non c'entra niente! E poi ci siamo messi a mangiare in allegria. Mmm. E ho notato che certi non si facevano problemi a servirsi un bicchiere dietro l'altro di sangria. Oh! Prevedo un disastro! Natania, io penso che dovresti smetterla di... Stai zitta! Tu non sei la mia vera madre! Non puoi dirmi quello che devo fare! Melody, con tutto il rispetto, ma non sei mica mia madre! Eh, vabbè! Ok, nel frattempo gli altri cominciavano a rendersi conto degli effetti che il gioco avrebbe provocato. In che senso? Nel frattempo gli altri cominciavano a rendersi conto degli effetti che il gioco avrebbe provocato. Mischiati all'alcol, in quel senso. Potrei fare una domanda indiscreta, tipo... Su quale compagno di classe hai avuto qualche fantasia? Ah! Rosa, mi deludi! Scrivere una domanda è troppo facile... E poi si può sempre mentire in quel caso. Invece scrivere un'azione è molto più interessante. Ah, c'hai ragione! Voi due mi fate davvero paura. Per fortuna che c'è gente innocente come te per calmare il gioco. Oh cielo! Non ti resta che sperare che ti capiti qualcosa di facile. Iris ci ha dato un foglio e una penna ciascuna. Ognuno si è messo in un angolo per scrivere senza essere visto. Ok, quindi le maggior parti saranno azioni, ok? Voglio trovare anch'io un posto tranquillo. Ah, ma devo scrivere una domanda? No, non me lo fai scegliere, spero. Mettiti al riparo da sguardi indiscreti e scrivi una domanda o un'azione. Non farmi... Non farmi scegliere però. Cavolo. Allora, di fuori no. In camera allora, a sto punto. No. Ah, perfetto, non c'è nessuno. Bene, che cosa potrei scrivere? No. 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 Ma come faccio? Cioè, spero che non sia pertinente. Come faccio a scegliere? Preferisco scrivere una domanda, preferisco scrivere una penitenza. Allora. Me lo fai scegliere in base a quello che mi ha appena detto Alex, immagino. Perché se io faccio una domanda, la persona potrebbe mentire. Ma non può essere pertinente. Perché qualsiasi domanda, la mia, può capitare a chiunque, insomma, a chiunque peschi il biglietto. Quindi non posso nemmeno dire, no, non voglio scegliere una penitenza perché non voglio che Lisandro faccia una penitenza, perché non è detto che il mio foglio vada da lui. Però sicuramente sì, perché il gioco è con lui. Oh, signore, non lo so. Ma è anche inutile fare una domanda, perché anche in questo caso faccio una domanda perché, per esempio, voglio che Lisandro mi risponda. Però in quel caso può mentire o può non dirlo davanti a tutti. Quindi, boh, io farei una penitenza. Una domanda, una penitenza. Come cavolo faccio a scegliere? E come può essere pertinente? Spero che non sia pertinente. Una domanda. Boh, una penitenza. Magari avessi più ispirazione. Meglio restare soft. Non voglio mettere nessuna a disagio e preferisco evitare domande troppo ose. Ma io non ho fatto la domanda, ho fatto la penitenza. E preferisco evitare domande troppo ose. Meglio restare soft. Non voglio mettere nessuna a disagio. Cioè, è una seconda possibilità anche in questo caso, praticamente. No, non lo so. Perché io ho già scelto la penitenza, ma sembra di no. E preferisco evitare domande troppo ose. Meglio restare soft. Non voglio mettere nessuna a disagio. Oh, queste scelte. Meglio restare soft. Non voglio mettere nessuna a disagio. Ehm, boh. E comunque se avessi fatto una domanda l'avrei fatta ose. Però, vedi? Cioè, anche in quel caso, chi è che ti può rispondere? Non ha senso fare una domanda. Meglio restare soft. Non voglio mettere nessuna a disagio. Sì. Non lo so. Sto facendo un casino. Non mi farebbe piacere che le facessero a me questo tipo di domande. Ma perché parli di domande se abbiamo detto, se abbiamo parlato di azione? Non voglio fare domande troppo ose. Non voglio mettere in imbarazzo nessuno. Boh. Non mi farebbe piacere che le facessero a me questo tipo di domande. Boh. Vai dalla terrazza all'albero e dall'albero alla terrazza su un piede. Ma che... Ok, va bene. Forse è un po' infantile, ma può essere divertente. Se cadi con la faccia sul prato, sì, forse sì. Ecco, ho fatto. Non mi resta che raggiungere gli altri. No, io non sto capendo niente. È l'ora del gioco della bottiglia. Raggiungi gli altri. Non erano qui gli altri? Sono qui? No. Sono di fuori? O sono in camera? No, sono qua. Ok. Oh, mamma mia. Siamo tutti insieme in terrazza. Forse avrei dovuto ragionare come Elisandro. Lui cosa può aver fatto una domanda per non far fare una penitenza? Boh, boh. Siamo tutti insieme in terrazza. Mettiamoci tutti in cerchio e ognuno metta il suo foglio in questo vaso. Poi facciamo girare la bottiglia. Ok. Praia è proprio entusiasta. La cosa promette bene. Mamma mia. Immagino che tutto dipenderà dalle domande o azioni che abbiamo scritto. Ci siamo seduti in cerchio e abbiamo messo i fogli nel vaso. Ok, quindi uno pesca un foglio, gira la bottiglia e chi indica la bottiglia deve fare quello che c'è scritto sul foglio. Giusto? Sì, dovrebbe essere così. Ci siamo seduti in cerchio e abbiamo messo i fogli nel vaso. E chi comincia? Ok. Beh, praia perché ha vinto. Si fa girare la bottiglia una prima volta. La persona che esce non rischia niente. Deve solo leggere l'azione per la persona successiva. Ah, ok. Cominciamo. Giro io la bottiglia. Ho paura, ho paura. Ha girato la bottiglia con un gesto deciso al centro del cerchio sul tavolino. Ok. Violet, devi pescare tu per prima. Violet mi sembra completamente nel pallone. Per fortuna che non è lei a fare la prima azione. Anch'io sto come te. Ha preso un foglio come se avesse paura di bruciarsi. Bere un bicchiere di sangria. Ok. Oh no, ricominciate. Calmati, Miss Noiosa. Non è certo la fine del mondo. Se capita a me, sappiate che rifiuterò di farlo. Ok. Non serve a niente arrabbiarsi. Non c'è scritto in quanto tempo bisogna bere. Quindi puoi riempirti un bicchiere e bere con calma. Però vedi, non è che hai una pistola puntata e lo devi fare per forza. O devi per forza rispondere alla domanda. E questo è il fatto. Non è mica detto che la bottiglia si fermi su Melody. Bene, continua Violet. Che ansia. Violet ha quindi girato la bottiglia sempre molto esitante. E a me intanto sudano le mani. Sto tremando, aiuto. E stavolta si è fermata su Kentin. Ok. Ha preso il bicchiere e lo ha bevuto in qualche sorso. Ah, ok. Tanto, cioè, ce l'aveva già in mano. Questa qui proprio. Melody sta per avere una crisi. Eh, mamma mia. Ma qual è il tuo problema? Spero almeno che Kentin sappia quello che fa. Ma perché? Ha solamente bevuto un bicchiere di sangria? Vabbè. Con moderazione. Con moderazione. Dai Kentin, pesca. Kentin è proprio preso dal gioco. Oddio. Se dovessi uscire con una delle ragazze del gruppo, chi sceglieresti? Ecco, siamo già alle domande sensibili. E se la bottiglia si fermasse su una ragazza? Se dovessi uscire con una delle ragazze del gruppo, chi sceglieresti? Oddio. La bottiglia ha girato più volte prima di fermarsi su... Praia. Alexi. Haha, ma guarda un po'. Eh, sì. Che si fa? Che si fa? Si ricomincia? E perché? Anche se Alexi è gay, la domanda è piuttosto chiara. Può rispondere benissimo. Se dovessi uscire con una ragazza... Eh, se dovessi uscire con una ragazza. Ok, diciamo... Nel caso in cui le ragazze in questa stanza fossero le uniche rimaste al mondo... No, non sto capendo. Ok, diciamo... Nel caso in cui le ragazze in questa stanza fossero le uniche rimaste al mondo. Ok. Ecco, diciamo. Allora io sceglierei... Beh, penso... O Rosalia o io, visto che siamo le tue migliori amiche. Allora io sceglierei... Sono curiosa di sapere chi sceglierà. Non gliel'ho mai chiesto. Violet lo guarda in modo buffo. Avevo dimenticato che era innamorata di lui. Rosalia. Sei stronzo però. Tu ti Rosalia. Io sono sempre la seconda scelta. Io? Perché hai un carattere forte e hai più esperienza delle ragazze della tua età. E poi, senza giri di parole, sei una bomba. Grazie. Oh cielo. Io sono un cesso a pedali allora. Ma scusate. Ma che palle. Ma... Io sono la seconda scelta di Lisandro eppure di un gay. Cioè scusate ma... È umiliante. Che brutta cosa. Vabbè. Chi si assomiglia si piglia. Vi meritate la vicenda. Anch'io... Anch'io... Anch'io ho dell'esperienza, sai. Non è dubito. E anche tu sei molto bella. Ma è più difficile inquadrarti rispetto a Rosa. E io allora sono la tua migliore amica. Eh... Che rispondi? Appunto, Lady, lo hai detto... Appunto, Lady, lo hai detto. Sei fuori categoria come fossi una sorella, capisci? Per questo non potrei sceglierti. Ah, non so come prenderla a dire il vero. Male. E sono scoppiati tutti a ridere. Oh cielo. Quando le ragazze avranno finito di battersi per un ragazzo che non potranno mai avere, possiamo continuare a giocare. Quando le ragazze avranno finito di battersi per un ragazzo che non potranno mai avere, possiamo continuare a giocare. Aspetta, pesco. Castiel, sei un mito. Vai dalla terrazza all'albero e dall'albero alla terrazza su un piede. Ecco la mia domanda. Castiel si lamenta, immagino. Che azione stupida. Grazie, Castiel. Ma no, è divertente invece. Se ci mettiamo a dare un parere ogni volta, non la smettiamo più. Alexi ha fatto girare la bottiglia. Ah. Melody, dici tutto. Vedi, non ha senso. Nessun problema, visto che mi aspettavo di peggio. Melody ha fatto l'azione senza problemi e anche con una certa grazia, devo ammetterlo. Non è il tipo che si lascia... Non è il tipo che si lascia fare facilmente. Non so cosa voglia dire. Un po' affannata ma contenta e tornata in terrazza. Ok. Azioni e domande si sono susseguite. Ok. Nat ha dovuto togliersi un capo d'abbigliamento. L'avrei fatta io questa. Nat ha dovuto togliersi un capo d'abbigliamento. Niente panico, togliti le scarpe. No. E cosa ti fa pensare? Che io sia nel panico. E ha bevuto un altro sorso di sangria. No. Bu. Oddio. E poi si è tolto la maglia. Oddio. Ma insomma, il timido delegato è solo un lontano ricordo. Oddio, Melody è svenuta. Ha chiamato l'ambulanza. Credo che i muscoli di Nat facciano un certo effetto a tutte le ragazze. Wow. E ovviamente Melody sta letteralmente sbavando sul tavolo. Sul tavolino. Che bel gesto che hai fatto. Mi sei piaciuto. Cioè, senza doppi sensi, l'hai sbattuto in faccia a Castiel, già nel senso. Oh, sei un genio. Lo spettacolo non mi lascia certo indifferente, ma so che Lissandro si difende bene da quel punto di vista. S. Cos'è? Ah, un telefono ha squillato e ci ha interrotti. No, vabbè. È quello di Iris. È quello di Iris. C'è stato un po' di silenzio per qualche secondo. Il telefonino continua a suonare. Iris non sembra avere l'intenzione di leggere i messaggi, ma neanche di spegnerlo. Tutto bene Iris, l'ho guardata con aria interrogativa. Credo di aver fatto abbastanza oggi. La lascio in pace. Tutto bene Iris? No, l'ho guardata con aria interrogativa. Credo di aver fatto abbastanza per oggi. La lascio in pace. L'ho guardata con aria interrogativa. I nostri sguardi si sono incrociati e la sua espressione è cambiata. C'è davvero qualcosa che non quadra. La sua espressione è cambiata in che senso? Va tutto bene. Vado in bagno. Voi continuate a giocare. Iris è uscita dal salotto. No, non vale così. Ma credo che nessun altro abbia notato qualcosa di strano. E poi quello che doveva succedere è successo. Cosa vuol dire? Ora tocca a me. No, ma aspettate. Io sono ancora un attimo sbigottita per l'azione di Nathaniel. Cioè, wow, che audacia. Non me lo sarei aspettato. Ok, ci sono. Adesso ci sono. Ora tocca a me. Ho dovuto semplicemente raccontare il miglior ricordo del liceo. Ah, ok, a posto. Ho mentito un po' dicendo che era la recita che avevamo fatto, ma non mi andava proprio di abbordare degli argomenti personali. Io avrei detto anche la corsa di orientamento. Ma sentila. Che c'è, Alexi? Non sei contento di quello che ho raccontato? Problemi tuoi. Bene, allora. Pesco un foglio e non parliamone più. Ed è quello che ho fatto. Ok. Sono impallidita a leggere cosa c'era scritto. Eh, c'è scritto il bacio, giusto? Sono impallidita a leggere cosa c'era scritto. Lady, bacia la persona prima di te. Ok. Sulla bocca. Quindi sei tu, Lady. Aspetta, cosa? No, aspetta. No, fermi. Fermi tutti. In che senso? Io ho dovuto pescare il foglio... Cioè, io l'ho fatta la mia azione. E ho pescato il foglio per la persona dopo di me. Cioè, dopo che ho girato la bottiglia. Cosa c'entro io? Quindi sei tu, Lady. L'avevo capito. Quindi che devo fare? Giro. L'avevo capito. Quindi che devo fare? Giro. E la persona che esce deve? L'ho deglutito a fatica. Nessuno ha rifiutato un'azione finora. Giro la bottiglia e la persona che esce? Ah, prima di te! Ah, del turno! Io pensavo prima di te nel giro. Orario o anti-orario. In quel senso. La persona alla tua destra o alla tua sinistra? Ah, quindi una persona deve baciarmi. Oh mio Dio! Oh mio Dio! Nessuno ha rifiutato un... Nessuno ha rifiutato un'azione finora. Mi sono avvicinata alla bottiglia per farla girare. Chi è quel mona? Chi è quel mona che ha... Che ha scritto una roba del genere. Cioè, non lo so. Che schifosi. Mi sono avvicinata alla bottiglia per farla girare. Cosa sta succedendo? Cosa... Cosa è successo? Ok. Immagino che non dovevo fare niente. Non lo so, non lo so. E ho alzato gli occhi... E ho alzato gli occhi solo dopo qualche secondo. Non capita, Alisandro. Cioè, è troppo... Ed è uscito Kentin. La persona che ho scelto prima. Oh... La persona che ho scelto prima. Oddio. Come ne vengo fuori da questa situazione? Non lo so. Lady, devi solo dire no. Passiamo ad altro. Si vede che Lady non è per niente a suo agio. Ah, perché tu sì... Vabbè, tu hai anche bevuto, quindi c'hai la scusa. Alla buon'ora. Propongo di passare ad altro. Ah, si può? Così? Forse è meglio, avete ragione. E abbiamo... Ah! Ah, così? E abbiamo smesso di giocare... Temendo che l'atmosfera della festa diventi tesa. Ah, ok. La serata sta per finire. Ah, così? No, mi sa che allora ho fatto delle scelte totalmente sbagliate. E poi sono stanca, voglio andare a casa. Oh no, non hai ottenuto l'illustrazione. Eh, l'ho capito. Ho capito. La serata è terminata, torna a casa. Ma veramente? Ok. Quindi... Quindi di fuori? No, dentro. Eh beh, perché... Ho in mente l'illustrazione, perché ci sono spoiler a manetta, quindi ho in mente l'illustrazione. È perché lei se n'è andata. Per la scelta che ho fatto io. Dovevo non dire niente, forse. Grazie a tutti di essere venuti. Da rifare al più presto. Certo. Da Alexi la prossima volta. Perché no, certo. Lissandro ha l'aria contrariata. Però non ho giocato nel mio turno, cioè non è che mi ha fatto scegliere o cose del genere. Quindi io non ho fatto nulla. Lissandro ha l'aria contrariata. Spero non sia per questa storia del bacio che tanto non doveva proprio succedere. Ancora messaggi. Iris chissà che nascondi. C'è qualcosa che non quadra. Eh sì, io ho sbagliato tutto. Così. Il consumo di alcol è usato... Il consumo di alcol è usato come elemento fittizio nell'episodio e vi ricordiamo che è vietato ai minori di 18 anni. L'abuso di alcol è pericoloso da consumare con moderazione. Ok, ho capito. Ho fatto un disastro nelle scelte praticamente. E ho mancato due illustrazioni. Penso. Mi sa di sì. Episodio 34. Strani messaggi. Dopo la serata da Iris ti sei resa conto che anche i tuoi amici hanno delle cose da nascondere. Ma se fosse ora di pensare a te e alla tua relazione, fai attenzione comunque. Guardate alle spalle. Io sono sbigottita perché... Perché ho saltato praticamente tutto un pezzo dell'episodio per colpa delle scelte. Cavolo.